Oggi professor Dal Negro le chiediamo di parlare della tosse, ma che cos'è la tosse, il colpo di tosse? La tosse intanto è un sintomo, come tale è un segno clinico che può riconoscere le più svariate cause. Dire ho la tosse vuol dire equivalentemente a dire ho la febbre, ma la causa può essere la più svariata. Quindi quando una tosse è particolarmente, al di là di quelle comuni, banali, che tutti noi più o meno siamo abituati a valutare anche a livello domestico come tali, quando però la tosse comincia a diventare persistente o legata a particolari fenomeni di vita normale, quale lo sforzo fisico, quale il parlare, quale il ridere e via discorrendo, o persiste per settimane, va assolutamente presa nel debito modo, va valutata, va indagata con tutto ciò che serve, perché può essere la punta di un iceberg che altrimenti non compare. Quindi può essere che la causa non stia soltanto nei polmoni, ma ad esempio nel naso o nelle vie aeree superiori? Assolutamente sì, anzi è una delle cause più frequenti della tosse, lo scolo nasale posteriore e cause di patologia delle cosiddette alte vie aeree, quindi naso, faringe e retrofaringe. Questo è molto comune, speciale a livello dei bambini, ma non solo. Però i motivi veri possono essere più svariati, dalle condizioni allergiche, dalle infatti infettivi, dalle patologie virali a batteriche, dalla presenza o meno di poliposi. Ci sono molti casi che possono essere per motivi diversi comunque espressi con tosse. E quindi motivo di più perché vada indagata. Che cos'è la tosse secca? La tosse secca è una particolare forma della tosse che così grossolanamente viene divisa in secca o produttiva, cioè produttiva si intende quella che produce secreti, catarro praticamente, e secca, viceversa quella che è solamente il colpo esplosivo di tosse, ma non seguita da produzione o emissione di secrezioni. Tipicamente questa è spesso e volentieri delle condizioni allergiche, in stagione particolare di rischio, delle infezioni virali al loro primo insorgere, o purtroppo di patologie molto peggiori che sono occupanti spazio a livello bronchiale. Si parla di forme anche neoplastiche.